Ciao a tutti, questo è il video dello swap con Pompon Creation, che ho organizzato dopo l'estrazione di chi vuole swappare con me. Ci mandiamo 5 cosine a testa e parto col farvi vedere quello che le mando io. Allora, mi ha chiesto di mandarle una mia creazione, quindi le mando questi orecchini con i miei famosissimi, per modo di dire, gelatini kawaii. Poi, questi stickers, che se non sbaglio li mandavo anche in uno swap a un'altra ragazza di quelle estratte, non mi ricordo quale però, sono davvero carini. Poi, questo astuccino di metallo, bellissimo. Questo squiscino Perché non mette a fuoco? Che è una calamita E infine questi due decotape E voilà. E adesso vi faccio vedere che cosa mi ha mandato lei. Allora, ecco questo pacchettino, è pieno di stickers carinissimi E mi sa che qualcuno ha provato ad aprirlo veramente, comunque, vabbè Spero che non ce l'abbiano fatta Adesso lo apro Allora, visto che non ci sono i pacchettini, ne dirò fuori uno alla volta Oh che carini Vabbè, visto che è lunghina, ve la leggo poi dopo da sola Oh che carino, guardate Un termometro con il ghiottino Lo attacco fuori dalla finestra Anzi no, lo attacco in camera Visto che io dico sempre che in questa stanza si congela Mia madre dice di no Adesso potrò anche dimostrarlo Bene Poi Oh, allora Qui c'è Che carino Ma è un medaglione, tipo Non lo capisco bene Che bell'effetto dorato E poi, oltre ad alcune perline C'è questo carinissimo cupcake con la faccina E poi le perline di legno Ho una bella voce oggi, sì Poi Allora Due decotape Questo con i pulcini e i fiorellini E questo con il gattino che mangia il pesce Che carino Sì, c'è Le mie dita sono in condizioni pietose Imbarazzante farsi vedere così Ma non posso fare i video con i guanti Poi Ce la farò Oh, ma è bellissimo Qui c'è il temperino E qui la gommina Oddio che profumo Madonna Profumo un sacco Che carino forma di cioccolato Ma che bello Grazie, grazie Ok Poi Ma quanta roba mi hai mancato Dovevano essere cinque cose Ah, le gommine Io faccio la collezione Io faccio la collezione Devo ancora fare il video per la collezione Ce la farò C'è il panda L'elefante Il cricetino E il cane con la testa mozzata Si riattacca tanto Che carini Poi non finiscono più No Uno squishy Oddio Quello di che carino Mi ha mandato troppa roba Oddio come morbido Per essere un Uno specchio Si Oh, com'è carino Guarda che carino il biscottino Con la glassa cash Non l'avevo mai visto Fatto così Che carino Grazie Che profumo Poi c'è un'ultima cosa Oh, che bello Quello da mettere sopra le matite A far mangiare la coma Mi hai mandato troppa roba Anche tu Guardate che carino Grazie mille È tutto bellissimo Io spero che anche le mie poche cose ti piacciono E ti mando un bacio Ti ringrazio E saluto tutti Ciao